SAS Customer Intelligence 360 è la piattaforma cloud di SAS per la gestione della customer experience dei nostri clienti, che ci permette di creare relazioni con questi sempre più personalizzate e individuali. Oggi i nostri clienti non cercano più un prodotto, ma cercano un'esperienza di acquisto, un'esperienza che è molto complessa perché si sviluppa su tutti i canali e i touchpoint a loro disposizione, siano essi fisici che digitali. Però, per fortuna, lungo questo percorso, queste Customer Journey, i clienti ci lasciano un'infinità di segnali, segnali molto deboli, ma che sono molto importanti perché rappresentano ciò che essi hanno bisogno proprio in quel momento. La soluzione SAS Customer Intelligence 360 ci permette, infatti, di poter raccogliere tutti questi segnali che, indipendentemente dal canale di arrivo, siano essi fisici e digitali, e soprattutto anche in tempo reale, ci permette, grazie agli algoritmi di Machine Learning e di Artificial Intelligence, di poterli analizzare, metterli in relazione tra di loro e cercare di scoprire quelle che sono abitudini e attitudini dei nostri clienti, e rappresenta un punto fondamentale per i marketer, per la definizione dell'intera strategia commerciale, partendo dalla pianificazione, dal disegno e dalle esecuzioni di Customer Journey multicanali, sempre più individuali e coinvolgenti per i nostri clienti.